Bella raga, benvenuti in un altro video del blog del Comico K3, qua il capitano che parla Andiamo a fare la recensione della fascia da braccio per iPhone 6 da 4.7 pollici Un prodotto veramente fantastico, utile, ma con qualche difetto Andiamo a scoprire quale Oh no! Andiamo ad analizzare più da vicino questa fascia da braccio per iPhone 6 Che come ho detto in precedenza mi sono trovato veramente veramente bene Andiamo ad analizzare bene Qua abbiamo la fascetta dove noi lo mettiamo qua Vi faccio vedere subito Noi la mettiamo qua Vabbè si chiude così Perfetto Sì adesso io l'ho chiuso un po' male, però comunque si chiude Abbiamo due varie misure Poi andiamo a vedere dove viene contenuto l'iPhone Questo schermo, possiamo chiamarlo schermo È una specie di pellicola di plastica touch Quindi funziona con lo schermo dell'iPhone Anche se abbiamo delle pellicole già su Per esempio se noi nel nostro iPhone abbiamo una pellicola semplice, lucida, opaca Oppure a specchio, oppure in vetro temperato Funziona comunque Quindi ottimo, resiste i graffi Veramente veramente ottimo Per inserire l'iPhone basta che lo mettiamo qua Possiamo anche inserirlo con delle cover Cover però non tanto spesse Tipo da 0.3 e 0.5 mm Non più spesse perché altrimenti non si chiude Con la 0.5 fate un po' di fatica Però comunque poi lo chiudete perfettamente Al di sotto abbiamo le fessure molto molto accessibili Anche se con delle cover dovete un po' spostare in avanti Per cercare il jack delle cuffie Questo l'ho notato Però comunque molto molto accessibili E poi da questa parte abbiamo il vano per la chiave Quindi se noi andiamo per esempio Questa è fatta una fascia da braccio fatta per la corsa Perché principalmente è fatta per la corsa Quando andiamo a correre Noi mettiamo le nostre chiavi Questa mettiamo qua la nostra chiave di casa Benissimo E botto sostanzialmente è tutto qua Non c'è molto da parlare di questa cover L'unboxing Vabbè non è neanche un grande unboxing Perché questo no sicuramente Però comunque non ho avuto né scatola né niente Era dentro una busta Il materiale è veramente bello Poi non so se potete vedere Ha questo effetto satinato carino Carino da anche al tatto È di ottima fattura Non me l'aspettavo così di qualità Vi consiglio di comprarla Se siete degli amanti della corsa Io principalmente la uso per la palestra Ma comunque per correre è veramente veramente fantastico Vi voglio far vedere un confronto Con quella del 5-5S Che è più o meno della stessa marca Non mi ricordo Che marca sia questa Comunque potete vedere Le dimensioni cambiano Beh in modo Non so Sì credo che si veda Sì cambiano notevolmente Però comunque vi posso assicurare Che nel braccio Se se lo mettete nel braccio Non vi dà alcun fastidio Né questa Perché ovviamente è più piccolo Né questa qua Me l'aspettavo un po' più ingombrante Invece non Invece è identica Se non trovo nessuna differenza Nemmeno con il peso Peso totalmente invariato Non so chi Beh questa è una Faccia da braccio Quindi si può mettere anche la gamba Però comunque Non vedo l'utilità Però non dovrebbe dare fastidio Neanche attaccato le gambe Comunque questo confronto Sì è notevole Ma comunque vi posso assicurare Che non dà fastidio E beh raga Questo video finisce qui Iscrivetevi al blog Del comico K3 Al gruppo Facebook Che trovate sempre in descrizione E voi ci vediamo A un prossimo video Del capitano E a tutto gas